Una mostra itinerante degli incendi purtroppo avvenuti ormai quasi un anno fa che hanno devastato il nostro territorio. Ancora ad oggi vediamo quelle che sono le cicatrici di quello che è successo. Quindi noi come città metropolitana non solo ospitiamo questa mostra ma abbiamo anche già da subito supportato con i nostri uffici i territori, proprio i comuni che sono stati coinvolti. Come li abbiamo aiutati? Abbiamo aiutato supportando gli uffici tecnici quindi sono stati fatti subito i rilievi sul territorio dei danni calcolato quello che era stato il danneggiato proprio nel substrato del territorio e abbiamo potuto supportare nella riqualificazione proprio del territorio stesso. Quindi la città metropolitana è al servizio dei comuni a 360 gradi.